20.30 di nuovo, buonasera dagli studi del TG2000, la cronaca, la procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, l'esplosione della cascina a Quarniento che ha ucciso tre vigili del fuoco sarebbe stato un atto voluto e deliberato. Il ritrovamento delle bombole di gas, degli inneschi rudimentali e di un timer per comandare esplosioni a distanza non lascia addito a dubbi. Il disastro avvenuto la scorsa notte a Quarniento nella provincia di Alessandria è stato voluto. Qualcuno ha provocato le deflagrazioni che hanno fatto crollare la cascina di via Francesco d'Assisi e ucciso tre vigili del fuoco. I pompieri erano arrivati sul posto verso mezzanotte dopo aver ricevuto una segnalazione di fuga di gas. Altri due vigili sono rimasti feriti assieme a un carabiniere. Nessuno di loro, per fortuna, è grave. Gli inquirenti, che hanno aperto un fascicolo contro i gnoti per omicidio plurimo e crollo doloso di edificio, da subito hanno escluso la matrice eversiva terroristica. Si lavora su varie piste riconducibili a dissidi all'interno della famiglia proprietaria dell'immobile, disabitato da due anni, è messo in vendita per 750 mila euro senza trovare acquirenti. Sembra che i litigi fra padre e figlio fossero frequenti e si pensa che il fine dell'esplosione fosse l'incasso di un premio assicurativo. I proprietari sono stati sentiti come persone informate sui fatti. Gli aspetti da chiarire sono ancora molti, ma si fa sempre più concreta l'ipotesi che i bersagli non fossero i pompieri, vittime dunque di un tragico scherzo del destino. Oggi i vigili del fuoco di tutta Italia hanno ricordato i loro colleghi che hanno perso la vita, Matteo Gastaldo, 46 anni, e Marco Trisce, 38, entrambi papà, e il più giovane, Antonio Candido, 32 anni, figlio di un vigile del fuoco. Il rischio c'è sempre perché l'evento è a rischio, facciamo situazioni in cui il pericolo ci dobbiamo andare e quindi può succedere un evento come quello che è successo ieri. Il nostro lavoro, la nostra professionalità, il nostro passaggio di informazioni tende sempre ad abbattere la soglia di rischio, ma mai ad azzerarlo purtroppo. La politica adesso, il governo richiama agli accordi sottoscritti l'Alzerol Mittal che ha annunciato la volontà di ritirarsi dal progetto di riqualificazione dell'ex Ilva di Taranto, mentre stasera in aula invece il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha riferito sul suo presunto conflitto di interessi sul caso Fiber, Augusto Cantelli. Quando ancora svolgevo la professione di avvocato, non ero ancora stato designato presidente del Consiglio, ho ricevuto dalla società Fiber 4.0 l'incarico di redigere. Ho ricevuto l'incarico prima di diventare presidente del Consiglio, così Conte nell'informativa alla Camera in relazione al presunto conflitto di interessi connesso ad un incarico professionale assunto dal Premier stesso prima dell'incarico di governo, il cosiddetto caso Fiber. Ignoravo legami con le finanze vaticane, aggiunge il Premier Conte in riferimento ad un articolo del Financial Times. Giornata tuttavia caratterizzata ancora dal caso Ilva, domani l'incontro con i vertici di Archer or Mittal dopo la decisione di rescindere dal contratto d'affitto con l'ex Ilva. Per il governo, a differenza di Mittal, non esisterebbero i presupposti giuridici per il recesso, mentre il ministro dell'economia Gualtieri promette di fare tutto quello che serve per mantenere aperto lo stabilimento di Taranto, ma i timori restano e per togliere qualsiasi alibi si lavora ad un intervento normativo in grado di ripristinare lo scudo penale. E quindi penso che oggi la prima cosa da dire sia tutti insieme per salvare i posti di lavoro. Ma tra le forze politiche continuano le accuse reciproche sulla responsabilità che ha portato poi alla richiesta di recesso di Mittal. Trentesimo anniversario della morte di Benigno Zaccagnini, partigiano eletto nell'Assemblea Costituente, fu tra i fondatori della democrazia cristiana. Oggi l'omaggio di Sergio Mattarella a Ravenna, prima tappa al cimitero dove sotto una pioggia abbattente il capo dello Stato ha deposto una corona sulla tomba. Poi il ricordo al palazzetto dello sport della città. La politica non può essere arida o disumana, ha detto il capo dello Stato. Cambiamo argomento. Il Verona Calcio ha deciso di allontanare dallo stadio fino al 2030 Luca Castellini. La società gialloblu ha comunicato la misura interdittiva a seguito delle dichiarazioni del capo ultra giudicate gravemente contrarie ai principi etici e ai valori del club. Castellini aveva definito una pagliacciata la reazione di Ballotelli ai corri razzisti e definito il calciatore non completamente italiano. La procura di Verona ha aperto due fascicoli di inchiesta per istigazione all'odio razziale. Al prossimo turno casalingo, il giudice sportivo ha deciso infine la chiusura della curva veronese. In Iraq adesso, dove è di 17 morti il bilancio nell'ennesima giornata di scontri in tutto il paese, il patriarca Monsignor Sacco fa visita ai giovani accampati in piazza a Baghdad. Sentiamo Antonio Soviero. Almeno quattro morti e dozzine di feriti negli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza nel sud dell'Iraq. Le vittime sono cadute sotto i colpi di arma da fuoco della polizia che ha sparato contro la folla che da ieri bloccava l'ingresso principale del porto di Umqaz nella provincia meridionale di Bassora. È lo scalo marittimo più importante del paese medio orientale dal quale passa la maggior parte delle merci importate dall'estero. Nella capitale irachiana Baghdad sale invece a 13 il numero delle vittime nelle ultime 24 ore negli scontri sempre tra forze di polizie e manifestanti. Dall'inizio della rivolta popolare, soprattutto studenti di tutte le regioni e in tutto il paese, contro il carovita e la corruzione nel governo sono circa 300 i morti. I giovani chiedono i diritti di base, lavoro, salute, istruzione e servizi. Chiunque privi di questi fondamentali diritti, i propri cittadini, commette un peccato imperdonabile. È quanto ha dichiarato il patriarca caldeo Luis Sacco che oggi ha fatto visita agli studenti accampati in piazza Tahir a Baghdad. La polizia nigeriana ha liberato 259 persone che erano detenute in ostaggio in una scuola coranica nel sud ovest del paese. I prigionieri sono stati trovati incatenati, alcuni hanno dichiarato di essere stati detenuti per anni, le condizioni nella moschea erano disumane e alcuni morti addirittura non sarebbero stati segnalati. Il proprietario del centro e altre otto persone sono state arrestate. Il movente del rapimento è ancora da capire. Parliamo di clima. Adesso Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi, ma non tutti gli stati federali americani sono d'accordo, mentre il premier francese Emmanuel Macron rilancia e firma con il presidente cinese Xi Jinping l'irreversibilità del patto. Marco Burin. Mai Stati Uniti così poco gli americani, almeno ultimamente. E forse non è un caso che alla Casa Bianca ci sia uno come Trump, che ha polarizzato l'opinione pubblica, o con lui o contro di lui. Un referendum quotidiano su qualunque tema, ambiente compreso. Il ritiro dell'accordo sul clima è stato annunciato ieri, il primo giorno in cui i 196 paesi che l'hanno firmato quattro anni fa a Parigi potevano tirarsi indietro. Trump non vedeva l'ora di stracciare l'intesa firmata da Obama, ma la procedura di recesso finirà tra un anno, durante le presidenziali. L'ambiente è terreno di scontro della campagna elettorale tra i democratici, soprattutto nuove leve come Alexandria Ocasio-Cortez, che ha lanciato un Green New Deal, e i repubblicani, che difendono l'industria tradizionale fondata sui combustibili fossili, quelli che emettono i pericolosi gas serra e che il Trattato di Parigi intende limitare il più possibile. Eppure la spaccatura non è così netta. Due anni fa, subito dopo che Trump aveva annunciato l'intenzione di uscire dall'Accordo di Parigi, è nata un'alleanza per il clima, che unisce ben 25 stati, metà della federazione, tra cui tre governati da un repubblicano, anche se ovviamente fanno da traino gli stati più grandi a guida liberal, come California e New York. Che hanno pure l'appoggio di Wall Street, che comincia a capire quanto sia conveniente puntare sulle energie alternative. Tra i primi accusatori di Trump, infatti, c'è l'imprenditore miliardario Michael Bloomberg, già sindaco di New York. Ma la partita è solo all'inizio e si deciderà nelle pratiche quotidiane, diffuse, dal basso, quelle invocate e sostenute dai più giovani. La cronaca ancora violenza a Roma con un tentativo di rapina finita tragicamente. Colpi di pistola in un bar nella periferia est della città. Due persone con lo scooter avvolto coperto ed armati hanno fatto irruzione in un bar. Nel bar il commerciante, secondo una prima ricostruzione, avrebbe reagito riuscendo ad impadronirsi della pistola di uno dei due. I colpi partiti durante la colluttazione avrebbero ucciso un rapinatore e ferito l'altro. Prometteva posti di lavoro in cambio di soldi fino a 8 mila euro per avere le risposte ai quiz dei concorsi pubblici e superare le visite mediche. Ci sono cascate almeno 100 persone. È successo a Perugia. Ce ne parla Federico Plotti. Vuoi superare un concorso pubblico? Vuoi ottenere un posto di lavoro garantito? Nessun problema, ci pensiamo noi. Vantando conoscenze agganci nelle forze dell'ordine, al Vaticano e negli ambienti dei manager pubblici, un sedicente membro dei servizi segreti e i suoi complici promettevano in cambio di denaro un posto sicuro. Garanzia di successo al 100%. Ovviamente era tutto finto, tutto inventato dai test per un concorso già bellico e compilati alle visite mediche necessarie per accedere, per esempio, alla carriera militare. Dai 2.000 agli 8.000 euro il costo del servizio. Altro che un uomo dei servizi, che è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Perugia, non era altro che un truffatore seriale. Abilissimo nel trattare le vittime e nell'iscenare colloqui, incontri, visite mediche fittizie. Tutto questo grazie a persone compiacenti che, in base alle necessità, vestivano i panni un giorno di un generale dell'esercito, un altro di un fantomatico vescovo oppure di un medico. Circa 100 persone sono cadute nella trappola. Ancora da calcolare il volume di denaro generato dalla truffa, riconducibile ad un'organizzazione che faceva capo al presunto agente dei servizi, un italiano residente a Roma. A lui e i suoi complici adesso vengono contestati i reati di associazione a delinquere dedita al traffico di influenze illecite e alla truffa. È stato firmato oggi al Ministero dell'Istruzione il protocollo liberi di scegliere per garantire una concreta alternativa di vita ai minori provenienti da famiglie appartenenti alla criminalità organizzata. L'intesa allo scopo di fornire una rete di supporto educativa, psicologica ed economica ai minori della provincia di Reggio Calabria. Tra i promotori del progetto c'è anche la conferenza episcopale italiana. Cittadinanza onoraria di Palermo. A Giuseppe Pignatone, l'ex procuratore capo di Roma e da poco nominato da Papa Francesco presidente del Tribunale del Vaticano, il sindaco Leo Luca Orlando ha conferito l'onore al magistrato nel pomeriggio durante una cerimonia ufficiale. Palermo è la mia città, ha detto Pignatone, e per me questo passaggio conclude un ciclo della mia vita professionale. Veniamo ora al documento inedito che dimostrerebbe che le violenze compiute dai soldati coloniali francesi sulle donne ciociare, le cosiddette marocchinate, sarebbero state scatenate per l'odio maturato oltre Alpe dopo l'aggressione italiana nel 1940. Non è però tutto così chiaro. Ce ne parla Antonello Carvigiani. Le violenze del maggio 1944 contro le donne ciociare compiute dalle truppe coloniali francesi, le marocchinate, come vennero marchiate in modo per niente amichevole, furono scatenate dall'odio contro gli italiani per l'aggressione subita dalla Francia nel giugno del 1940. Emiliano Ciotti, presidente dell'Associazione delle Vittime delle Marocchinate, ha trovato nell'archivio di Stato un documento firmato dal generale Joen. Sul generale da tempo pende l'accusa di aver concesso alle sue truppe, dopo lo sfondamento della linea Gustav, 50 ore in cui poter fare di tutto, violentare, stuprare, razziare, vittime, moltissime donne, ma anche giovani, religiosi, sacerdoti, atroci brutalità mai sufficientemente raccontate. Nel nuovo documento Joen ammetterebbe che tutto questo sia stato fatto per vendicarsi degli italiani traditori. Leggendo le carte, così come rilanciate dalle agenzie di stampa, sembrerebbe che Joen sia preoccupato in realtà di chiedere alle sue truppe, nonostante il disprezzo per gli italiani, di mantenere un'attitudine dignitosa, qualcosa non torna. Quando sarà possibile leggere tutto il documento sarà tutto più chiaro e l'ipotesi di Ciotti andrà valutata in modo serio e approfondito. L'obiettivo è una finalmente solida e giusta ricostruzione di quelle terribili violenze, troppo a lungo dimenticate e misconosciute, per collocarle in un quadro storico obiettivo è credibile. Italia ancora sotto la morsa del maltempo in Toscana, strade allagate nel Fiorentino e Frane in provincia di Lucca con diverse abitazioni rimaste senza corrente. Nel Salernitano una sessantina di persone sono state evacuate per rischio idrogeologico. A Cesena si è abbattuto invece un violento nubifraggio mentre il sindaco di Napoli ha deciso di tenere le scuole chiuse anche domani. Secondo i meteorologi queste perturbazioni potrebbero interessare il Paese per tutta la settimana e anche per gran parte della prossima. Pompe di benzina chiuse domani e dopo domani. È confermato lo sciopero dei benzinai con chiusura degli impianti stradali e autostradali su tutto il territorio nazionale. Di fronte al silenzio assordante del governo, dicono i sindacati di categoria, non c'era alternativa alla mobilitazione generale. Lo sciopero avrà inizio alle 6 del mattino di domani e terminerà alle 6 del mattino dell'8 novembre. La strada è lunga ma dalla biologia sintetica potrebbe arrivare una nuova terapia per chi soffre di diabete. Ce ne parla Letizia Davoli. Primi passi per una nuova speranza per chi soffre di diabete viene dalla biologia sintetica. Le prime sperimentazioni, per ora nei topi, danno segnali incoraggianti. Si tratta di vere e proprie fabbriche di insulina, cellule del pancreas ingegnerizzate in laboratorio che vengono attivate dalla luce in modo da produrre insulina in quantità sufficiente a controllare il glucosio nel sangue senza farmaci. Il gruppo di ricercatori statunitensi che ha elaborato il progetto spera di aver aperto una nuova strada tutta naturale per la terapia del diabete. Oggi infatti l'insulina mancante viene prodotta da farmaci o fornita direttamente tramite iniezione. Questa nuova strategia potrebbe permettere invece di arrivare allo stesso obiettivo trasformando dei segnali luminosi in segnali per alcune proteine inserite nelle cellule danneggiate del pancreas. Proteine che, modificate con un nuovo manuale di istruzioni, se raggiunte da luce blu inizierebbero a produrre una particolare molecola in grado di aumentare la quantità di insulina nelle cellule. Per ora si è riusciti a creare il meccanismo. Prossimo passo riuscire a regolarlo perché funzioni solo quando ce n'è bisogno e nelle quantità giuste. Una strada lunga ma promettente. E arriverà tra i banchi anche l'educazione ambientale. Il ministro all'istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato che non sarà più materia facoltativa. L'anno prossimo l'Italia sarà il primo paese al mondo dove lo studio del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile sarà obbligatorio, ha detto durante l'audizione in Commissione Congiunta Cultura. Di Camera e Senato. Andiamo ora a Firenze dove dalla notte scorsa la Porta Sud del Battistero è al Museo dell'Opera del Duomo. Sarà visibile al pubblico dal prossimo 9 dicembre. Clara Agliatosti. Tutto in una notte. Dopo un restauro importante ieri la Porta Sud del Battistero di Firenze ha fatto il suo ingresso al Museo dell'Opera del Duomo. L'opera trecentesca dello scultore Andrea Pisano ha lasciato l'opificio delle pietre dure ma non è stato semplice. Considerato il peso del portale circa 7 tonnellate sono stati necessari due viaggi, uno per anta, un trasporto delicato con mezzi particolari ed operai specializzati. Una volta al museo la Porta Sud è stata trasferita nella Sala del Paradiso e montata accanto alle altre due porte del Battistero in una teca dove sarà visibile al pubblico dal 9 dicembre. Occorreranno più di due settimane per le operazioni e per questo il Museo dell'Opera del Duomo rimarrà chiuso al pubblico dal 4 al 22 novembre prossimi. Con la Porta Sud si conclude un ciclo epocale di restauri diretti ed eseguiti dall'opificio delle pietre dure di Firenze che ha riguardato le tre porte monumentali del Battistero, la Porta del Paradiso e la Porta Nord di Lorenzo Ghiberti e la Porta Sud, opera di Andrea Pisano. L'opera di Santa Maria del Fiore ne ha finanziato interamente il restauro, lo smontaggio, il trasporto e la collocazione nel museo. 20 e 48, il telegiornale finisce ma vi lascio con TG, TG e Caterina Dall'Olio. Arrivederci. Grazie a tutti.